Matteo sente tutti i segretari, ma teme Giorgetti, come Conte ha paura di Di Maio, nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, incontrando deputati e senatori della Lega nella nuova aula dei gruppi a Montecitorio, Salvini non ci ha girato intorno. E ha annunciato ai suoi l'intenzione di aprire, a breve, delle interlocuzioni in vista dell'orma imminente partita del Quirinale. Perché, ha sottolineato, il prossimo capo dello Stato deciderà tre legislature, intendendo, evidentemente, non solo le prossime due ma anche quella in corso. Non è un mistero, infatti, che la corsa al Colle potrebbe avere come appendice anche uno showdown che avvicini lo scenario delle elezioni. Anticipando a deputati e senatori quel che avrebbe ribadito 48 ore dopo da Bari, lunedì chiamerò i segretari di tutti i partiti, Salvini ha quindi sottolineato che il confronto sarebbe iniziato dai nostri alleati. E via ad elencarli uno a uno in quest'ordine, Meloni, Berlusconi, Totti, Cesa e Renzi. Si, ha citato espressamente anche i leader d'Italia viva, tra lo stupore di molti dei presenti. Che tra i due Mattei ci sia un canale privilegiato e che si sentano spesso, infatti, non è un mistero. Ma arrivarlo a definire, alleato, davanti a circa 150 parlamentari non è proprio la stessa cosa. Anche se il riferimento fosse solo rispetto alla specifica partita del Colle. Una sfida delicata, anche per la tenuta dei gruppi parlamentari rispetto alle indicazioni che arriveranno dai rispettivi leader. Anche per questo, forse, Salvini ha scelto di sopire la polemica di alcune settimane fa. Dopo la litigata su vaccini e green pastra lo scettico Golinelli e il Provax in Vernizi. Sul punto il nostro elettorato ha posizioni diverse, quindi ha detto Salvini evitiamo discussioni in proposito e anche di raccontarle ai giornali. Messaggio che i parlamentari della Lega hanno recepito, nonostante il curioso intervento di Golinelli che ha chiesto la parola per tornare a sostenere la linea Novax citando le sue personali competenze sul campo, in quanto allevatore, di suini, sulla nocività dei vaccini non ho dubbi. Grazie a tutti.